Un altro bel porcinello grigio, adesso lo prendiamo alla radice e vediamo un po'. Eccolo qua, un po' vecchiottino, però ancora in buone condizioni. Ma c'è il fratellino, guardate, eccolo qua. Eccolo qua, un altro bel porcellino grigio, che poi sono vicini, eh. Ecco, questo è un pochino più giovanetto, ma comunque una buona taglia. Adesso vediamo se ne troviamo ancora altri nelle vicinanze. Un po' ormai c'ha la vista, eh. Vai. Eccolo qua, un altro, vicino al tronchetto, eccolo qua. E' un altro porcinello grigio. Trovate uno, bisogna cercare sempre nella zona che ce ne sono altri. Pucciolo Pucciolo, un porcinello appena, questi sono i più buoni. Eccolo qua. Guardate, ancora, il cappellino è ancora chiuso. Eh? In tutto sono, bellissimo, bellissimo. Ecco qua. Un altro, un altro bel porcinello grigio, piccolino. Voilà! Guardate che bello, eh. Carissimi amici, il nostro bottino si arricchisce sempre di più. Nel nostro canale non potevano mancare anche i nostri amici funghi, porcinelli grigi e porcinelli rossi. Siamo in attesa di trovare ancora il classico Boletus Edulis, ovvero il porcino, ma noi non demordiamo. Siamo sicuri che prima o poi li troviamo. E con questo, un caro saluto a voi tutti. Grazie. Grazie.